Presidente Mughini, tu cosa ci dici? Guarda, sto leggendo un libro di un uomo molto intelligente che si chiama Luca Ricolfi, il quale un capitolo dice che l'iperbole è sempre eccessiva. Quindi nel valutare una certa cosa è l'iperbole. Io non credo che sia un'iperbole dire che questa è una giornata di vergogna per lo sport italiano. Non è un'iperbole, è la pura e semplice realtà. Una vergogna per lo sport italiano e una pagina indecente per la città di Roma, per una parte della città di Roma. E io a questo punto a quelli della Lazio auguro di andare in D e di restarvi a marcire. The live and the concert, the pie and the concert, the music and the concert. The live and the concert, the movie and the concert. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti